6 ciao a tutti ragazzi benvenuti a questo nuovo commentario del share gaming io sono fapij e qui con me c'è l'onnipotente puffo questa volta il gameplay e il commentary che abbiamo fatto è di skirim come vi avevamo già annunciato ed era ora che facciamo il commentary di skirim perché ve lo portavamo avanti da due settimane sono contento questo è il gameplay di skirim e sono fiero di poterlo dire questa qua è la cinematica di skirim prima di postarvi il gameplay vi posto la cinematica perchè qua vi vorrei introdurre prima oblivion perchè alcune persone non sanno neanche che cos'è e me è compreso si lui compreso perchè è un hub e poi passeremo a commentare il gameplay di skirim niente allora cosa possiamo dire su oblivion oblivion è un rpg è un rpg creato dalla betesia studios che è una delle case che preferisco solo per aver fatto appunto oblivion e niente oblivion secondo me è uno dei più bei giochi che io abbia mai giocato in vita mia perchè entra sicuramente nella top 3 e il suo punto di forza secondo me è la grafica come potete vedere guardate le ambientazioni no si più che grafica ambientazioni comunque e anche la giocabilità per quanto il gioco si suddivide in questo ovvero allora innanzitutto è ambientato tipo nell'epoca medievale però abbiamo anche magia quindi non è solo ripresa storica ma è anche un po' fantasioso come potete vedere ehm si appunto la il primo scopo del gioco è seguire la quest principale che in skirim non ho più palidea di che cosa sia perchè non è stato ancora detto niente ehm e inoltre oltre a questo ci sono anche le quest che sono quest secondarie secondarie e il bello di oblivion che appunto le quest a volte sono le quest secondarie sono più belle di quelle della trama principale e spero che skirim appunto possa soddisfarci sotto questi sotto questi campi appunto ehm e niente questo è tutto quello che possiamo dirvi su oblivion dalla stretta perchè non abbiamo molto tempo molto tempo per spiegarvi ho visto che la cinematica è già finita niente non mi resta che lasciarvi su sul commentario del gameplay di skirim e augurarvi buona visione buona visione a tutti ciao ciao rieccoci qua con skirim stavolta e questo è il piccolo gameplay rilasciato della monza single player e credo che ci sia solo quella si è l'unica penso si si vedrà e come vedete già dalla grafica è stupendo è una cosa incredibile guardate solo i dettagli solo che penso che sia anche più pesante di battlefield perchè c'è il mondo è enorme no ne vale la pena dai questa minecraft che ha cubetti fa fatica e minecraft è stato sviluppato male ma comunque eh vabbò è stato fatto con java sai com'è ehm già soltanto in prima persona cioè credo che sia uno spettacolo si si eh nonostante tutte guardate le combinazioni delle magie che è stata implementata questa giunta che non c'era prima è incredibile i diversi ambienti si le ambientazioni l'atmosfera l'atmosfera di skirim è una delle cose non lo so più realistiche che abbiamo visto non penso ci sia un videogame che anche c'è ci assomiglia anche di poco a questo è una cosa è unico proprio unico si si guardate le movenze dell'arco la dinamica della freccia del corpo che cade boh tra l'altro una delle caratteristiche di questo gioco è praticamente le armi infinite praticamente armature infinite mob infiniti si esatto combinazioni di magie assurde boh qualcosa di assurdo guardate questo qua cioè che bello le movenze assurde mi e ci sono anche le armi a kimbo si appunto si guarda in oblivion in oblivion non c'erano cioè questa cosa è perché lo stiamo vedendo è la prima volta che lo vediamo anche noi praticamente quindi non lo sappiamo come diciamo che non penso che abbia la stessa guarda ci sono anche l'abilità one handed in crazy la possibilità di combinare spada con poteri cioè si io sono più che altro curioso di sapere da dove escono i mostri perché in oblivion c'era c'erano i portali di oblivion ma si uscivano ma qua non ho più palito l'idea di che cacchio cioè sarà solo una sorpresa si comunque in base alle classi penso che anzi senza penso sono sicuro l'ho letto che sarà come all'inizio sarà come oblivion solo che la personalizzazione del personaggio è proprio estrema puoi puoi farti praticamente la tua faccia puoi fare quello e che figo niente gli animali i mob si si poi li puoi anche cavalcare però per cavalcarli devi fare addestramento cioè devi devi eseguire devi andarci tanto sopra poi ti aumenterà l'abilità quindi potrai combattere anche da sopra da sopra l'animale che cavalchi si specialmente se non ti attacca si ma questi qua prima non l'avevano visto perché adesso si sono avventati tutti i controlli lui non lo so no ma tranquillo è un po' grande però come nemico non penso che abbastanza si si vabbè comunque tu vai in giro e poi si tranquillo si 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 ma succede sempre non ti capita mai di andare in giro c'è un drago che che prete ma tu hai anche i movimenti cioè incredibile si i draghi li puoi anche domare comunque boh non lo sapevo si si infatti comunque dicevo puoi seguire come in Oblimion la trama principale che è fatta da quest e poi ci sono anche le quest secondarie che sono un'infinità anzi alcune quest secondarie sono più belle nella trama principale e questo è proprio il bello di Oblivion e credo anche non lo so che si possa anche andare in giro per i cazzi tuoi no? certo che puoi andare in giro per i cazzi tuoi dove vuoi appunto solo che magari delle zone sono bloccate perché ti serve una chiave che magari troverai in altre missioni oppure devi borseggiare in tutti gli RPG si è sempre così si ma guardate che cacchio di grafica ma come è possibile cioè io non lo questo qua non lo prenderò per la Play 3 me lo prenderò per PC e lo comprerò sarà uno dei pochi giochi che comprerò per PC perché io cioè tutti l'hanno per scontato che comprare un gioco per la Playstation 3 e deve funzionare e beh è chiaro che funziona però non tutti fanno lo stesso effetto cioè in base alla pesantezza del gioco la Playstation 3 chiaramente è quello che i giochi sono quelli con la grafica peggiore rispetto a PC e console esatto infatti vengono testati sulle console i giochi prima di renderli disponibili su PC e X X60 e inoltre qua vediamo che si può dialogare con certo poi anche fare offrire missioni puoi anche pagare facendo delle missioni se non hai soldi una delle cose che spero l'unica cosa che spero che abbiano corretto proprio l'unica è il sistema di sicurezza che hanno le guardie perché in Oblivion entravi di nascosto in una casa come entravi ti trovavi già la guardia in casa dentro che ti guardava e ti diceva fermati feccia criminale devi pagare perché hai commesso un reato e se tu pagavi ti portavano in prigione se non pagavi ti confiscavano le merci rubate basta no scusate se pagavi ti confiscavano e basta se non pagavi ti portavano in prigione e se non facevi nessuna delle due ti attaccavano con le spade e tu non potevi evadere quindi se tu commettevi un reato eri praticamente boh era finita dovunque andavi potevi stare tutta la vita via e quando tornavi nelle città c'era sempre la guardia che ti aspettava quindi spero che abbiano corretto almeno questo perché e comunque per chi volesse acquistare il gioco è figo aspetta un attimo questo è figo ma si tranquillo sarà disponibile sia su cd in tutti i game stop o dove cavolo lo comprate voi e anche su steam lo rilasceranno credo che sia molto più comodo steam vabbè beh niente io vi consiglio compratelo 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 e compratelo o scaricatelo no scaricatelo no questo va scaricato comprato perché è uno dei giochi più belli del mondo bene ragazzi il commentario di oggi finisce qua e niente vi lasciamo con questa visione ciao a tutti ciao a tutti